Sì, vabbè, diciamo che questa è una mia caratteristica, quella di sacrificarmi e di correre tanto. Sinceramente non è una mia ossessione, non l'è mai stata e quindi l'importante è che la squadra vinca, poi quello arriverà sicuramente. Sì, sicuramente la partita l'abbiamo organizzata così, l'abbiamo studiata alla Juve Stabia e sapevamo che dovevamo andare a prendere così perché loro giocano sempre da dietro e io dovevo andare a prendere il play, quindi abbiamo gestito bene questa situazione qua. Sicuramente i gol nell'arco di un anno sono importanti e soprattutto per un giocatore come me sono importanti, però ripeto, non deve diventare una ossessione sennò poi le cose diventano in peggio. In fase di non possesso l'idea era quella di stare sul play, ripeto, poi in fase di non possesso avevamo comunque libertà di svariare su tutto il fronte. Sì, è una situazione un po' così per tutti penso, quindi quando succedono queste cose qui bisogna concentrarsi sulla partita anche se sicuramente non è stato facile in questi giorni. Con questa vittoria al piccolo Nicolas speriamo di avergli dato una gioia con questa vittoria qua.